Buonasera a tutti, buonasera, bentrovato, stasera cosa ci prepari? Eseguirò una mia trascrizione su un brano di un famosissimo compositore qui di Bussetto da Giuseppe Verdi, il Nabucco, variazione sul va pensiero. Lo conosciamo tutti, grande, quindi il nostro Marco Valenti che effettuerà anche una variazione quindi scopriremo anche la sua interpretazione di Nabucco. Buon ascolto! Marco Valenti! Buonasera a tutti! 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 avete sentito che roba?